Ciao Cristian, qui sembra proprio una trasmissione seria, non è così. Allora Cristian, due parole prima che io ti introduca. Ho incominciato qualche mese fa, un anno fa, forse questo tipo di dialogo con il mondo della rete, un mondo che mi incuriosiva, dovevo scoprire un po' come funziona e trovare la mia dimensione rispetto a questo mondo che mi faccia tantissima paura, la rete, l'impersonalità, il grande pubblico. Poi invece ho scoperto che poteva essere un'occasione per farmi conoscere, far conoscere quello che fa la mia azienda che è la 21 Invest, per cui come noi operiamo nel rilancio delle aziende e soprattutto provare a proiettare una visione più completa del mio modo di interpretare l'investimento, rilancio, il mondo dell'impresa, che è un modo che vuole tenere in considerazione tutti gli stakeholders. Oggi è diventata una cosa più complessa che si chiama shared value, ma in ogni caso raccontare di tutte le cose che mi incuriosiscono e fanno parte del mio modo di aggiungere valore a quello che faccio. Questo tipo di dialogo mi ha portato molto presto a parlare di cose che riguardano il nostro paese, l'Italia, quindi la bellezza, la cultura, l'arte. Io sono un collezionista, quindi mi interessa, il mondo dello sport, i grandi eventi, forse saprai che presiedo il comitato organizzatore dei mondiali di sci di Cortina, quindi l'occasione del grande evento. Insomma tutto quello che riguarda l'impresa, tutto quello che riguarda la discontinuità, cioè il coraggio che in alcuni momenti della vita ogni individuo, un'azienda o qualsiasi tipo di organizzazione ha l'occasione di cambiare, cogliere il cambiamento attraverso degli atti di coraggio. Mi è capitato tempo fa di venire qui, conoscerti, rivedere questo orgoglio italiano che è il Museo Egizio di Torino. Tu sei il direttore di questo museo, sei una storia italiana di successo. Questo museo è una storia di successo italiana perché è il più grande museo egizio al di fuori del Cairo. Mi ha incuriosito moltissimo la tua storia, che mi piaceva condividere e raccontare, che prima di tutto è la storia di un cervello che rientra in Italia. Io di questo ho parlato molto spesso. Il nostro problema non è che i nostri giovani vadano all'estero, il problema è che dobbiamo essere abbastanza bravi da richiamarli, capitalizzare sulle loro esperienze o addirittura a talare di stranieri. Ecco, tu sei andato, la tua carriera, tu hai studiato al liceo classico a Vicenza, parleremo anche di questo, ne parlo spesso dell'importanza della visione classica delle cose durante questi momenti di grande discontinuità e di mutazione, ma volevo che tu un po' raccontassi quella che è stata la tua esperienza personale. Tu sei stato tanti anni in Olanda. Ora, innanzitutto ti ringrazio per la definizione che hai subito voluto modulare, perché a me va molto stretta questa giacca che mi mettono addosso di cervello di rientro. Condivido in pieno il fatto, guarda, se dipendesse da me lo metterei addirittura come un obbligo costituzionale. Tutti dovrebbero essere per un periodo breve o medio-lungo all'estero semplicemente per capire che non siamo il centro del mondo, che la nostra modalità di affrontare i problemi, di vedere la realtà, di fare ricerca è una delle varie possibilità, ma ci sono punti di vista molto diversi che ti possono permettere quindi di avere un'immagine più integrata. Quindi io ringrazio per ogni minuto che ho trascorso in Olanda, sono stato in Olanda a 17 anni, un paese che mi ha dato tantissimo. Nel dire che mi ha dato tantissimo vuol dire anche che è un paese che mi ha fatto crescere, che mi ha dato delle opportunità, mi ha provocato anche profonda crisi e a volte anche sofferenza, perché quando tu ti trovi a dover affrontare i problemi da un altro punto di vista, quando ti rendi conto che il tuo sistema, la tua categoria di valori non è quella che necessariamente viene condivisa da un altro paese, significa metterti in discussione, significa che quello che credevi fino a quel momento magari non è così, significa che devi prendere in considerazione quello che dice l'altro. E in questo poi, se ne parliamo, mi hanno aiutato molto anche gli studi classici. Cos'è l'altro e quale relazione abbiamo con l'altro? Guarda, ti interrompo, è fondamentale. Ne abbiamo parlato parecchie volte e alla fine, una frase banale, ma insomma, gli antichi greci dovevano risolvere dei problemi senza avere un database, senza avere delle certezze e provando a pensare a lungo termine e in termini proprio di pensiero che andasse oltre. Il mondo che stiamo vivendo oggi, che è un mondo di grande mutazione in cui stanno accadendo tutte queste cose in cui ogni tanto ci sentiamo solo parzialmente in controllo, più di sempre avrebbero bisogno di questo tipo di approccio e tu sei una dimostrazione che funziona così. Quindi gli studi classici sono importanti. Gli studi classici sono importantissimi, fra l'altro mi hanno permesso, si dice sempre che con gli studi classici poi non fai nulla. Io sono partito avendo una laurea di lettere classiche, sono arrivato in Olanda, ho deciso di riscrivermi all'università e di studiare Egittologia e grazie agli studi classici mi sono potuto mantenere, perché c'è un grande bisogno in Olanda di insegnanti di latino e greco e quindi sono andato nel liceo a insegnare latino e greco, quindi questo è stato già il primo nucleo importante che mi ha permesso di crescere. Dopodiché il confronto con quello che dicono i testi classici, io ricordo sempre che Plutarco nel descrivere la vita di Pericle parla della ricostruzione del Partenone dopo la colmata persiana e ne fa una descrizione che mi ha sempre colpito, dice ogni pietra nel momento stesso in cui veniva posta era antica e al contempo era nuova. Era antica perché si inserisce in una tradizione e quindi anche innovando e mutando le forme in realtà però recepisco una tradizione antica ed è nuova appunto perché è innovativo e questo è il senso del classico. Il classico non significa essere sclerotizzati in una forma e non cambiare, significa aver assunto determinati valori che sono universali, che parlano a me. Il pantarei. Sì, il pantarei che poi è attualissimo, ci rendiamo conto, come dice Eraclito, non solo che tutto scorre ma ogni volta che mettiamo il piede in un fiume che noi non abbiamo mai l'esperienza dello stesso fiume perché non è mai lo stesso, cambia continuamente. Questo ci permette di relativizzare chi siamo noi e qual è il nostro ruolo e ci permette anche di capire che come l'umanità tenda sempre ad una crescita con alti e bassi ma significa poi è il sale stesso della ricerca, è il sale stesso della dialettica. Sai, tanti pensieri che vogliono banalizzare questo tipo di osservazione dicono ma ci sembra tutto un poco pratico, ci sembra che uno che studia i classici poi alla fine non dico che è un peso per la società ma insomma non riesce a darci qualche cosa. E invece leggevo di recente ci sono delle statistiche che anche chi non è particolarmente avanzato su questi campi come gli Stati Uniti e stanno cercando sempre di più nella Silicon Valley dei leader aziendali che siano laureati in filosofia o in storia antica. Interessante, no? Io lo trovo fondamentale. Allora, io penso che nessuno di noi, come nella vita personale, noi non possiamo essere e agire nel presente e programmare un futuro se ci sradichiamo dalla nostra personalità e dalla nostra biografia personale. Lo stesso dicasi per l'umanità in generale e quindi siamo qui circondati da bellissime statue egizie e questo è un tassello nella storia dell'umanità. Ma stiamo parlando di cambiamenti radicali. Allora, io mai come ora sento che la Grecia possa esserci, l'antica Grecia, di insegnamento fondamentale. Fra il quinto e il quarto secolo avanti Cristo si ha un mutamento profondo della società che è durato fino adesso e adesso forse ne stiamo avendo uno successivo, ovvero si passa dalla tradizione orale alla tradizione scritta. Socrate che nell'Eutidemo e in altri dialoghi platonici si scaglia contro la parola scritta perché dice che imbriglia il suo sapere, non gli permette più di applicare il metodo maieutico che aveva imparato dalla madre e quindi di modulare a seconda delle domande che gli fa l'interlocutore la sua risposta per arrivare alla verità. Sappiamo che i Socrate gli risponde e gli dice che invece la parola scritta ha un valore e poi tutti sappiamo come è andata. Socrate ha perso e la parola scritta è diventata lì, ma proprio in quella trasformazione possiamo cercare di capire quello che sta avvenendo ora. Molto spesso facciamo l'errore di pensare che la trasformazione digitale debba essere affrontata da specialisti digitali, specialisti informatici, da ingegneri, cosa verissima, ingegneri matematici, però è una trasformazione che riguarda l'uomo. Sta mutando profondamente il nostro modo di approcciarsi, il nostro comportamento, anche le nostre capacità cognitive, le neuroscienze hanno un valore importantissimo in tutto ciò. Significa quindi che dobbiamo affrontare con filosofi, con storici, con antropologi, con scienziati sociali per capire questa trasformazione. Tu hai puntato molto, Cristian, hai puntato molto sulla ricerca. Mi hai raccontato che un museo infatti non deve solo, giustamente, la sua unità di misura è quanti ospiti riesce a fare, quanti visitatori, insomma il tipo di attività. Perchè su quello sono molto critico. Bravissimo, volevo arrivare proprio là. È importante, tu fai la passeggiata con il direttore, per cui insomma allarghi il mondo del marketing all'interno di questo contesto. Però la ricerca è un fatto importante, ecco questa è una cosa che secondo me sfugge ai più. Vuoi dire due parole su il significato della ricerca all'interno di un museo? Perché il museo non deve diventare autoreferenziale? Il museo innanzitutto non è l'assommatore della cultura materiale contenuta all'interno del nostro vetrino, ovvero non siamo oggetti. Il museo è storia di donne e di uomini, di donne e di uomini a cui sono appartenuti questi oggetti e che noi cerchiamo di scoprire e di raccontare. Quindi gli oggetti ci permettono di raccontare una storia e questa storia la posso raccontare solo se faccio ricerca. Un esempio pratico, se noi lo rivoltiamo su noi stessi e guardiamo dai resti magari dei nostri cari che non ci sono più come possiamo ricordare una storia di qualcuno, come possiamo ricostruire una biografia. Lo possiamo fare sulla base di lettere che hanno scritto, sulla base di foto, sulla base dei pochi oggetti che ci hanno lasciato. La stessa cosa lo possiamo fare sul mondo antico. Quindi gli oggetti che noi qui abbiamo non sono tanto degli oggetti d'arte. Ricordiamoci anche che la parola arte di per sé stessa non esiste nell'antico Egitto, ma neanche nell'antica Grecia, ma sono dei documenti storici che mi permettono di raccontare una storia. Ecco quindi che il museo vuol dire oggetti, vuol dire archivio, vuol dire anche una sorta di sapere intangibile che viene tramandato da generazione in generazione. Guarda, questo ha un parallelismo incredibile con il mondo dell'impresa, dove anche lì da una parte devi sempre essere orientato per definizione al futuro, alla discontinuità, ha il coraggio delle scelte che sembrano degli scalini insormontabili, troppo alti. Dall'altra parte però tutto questo sapere per poter affrontare anche, non voglio dire l'inedito, ma lo sconosciuto, ti devi venire dalla storia, quindi la conoscenza del passato. Si dice che non puoi sapere dove andare se non sai da dove vieni. Assolutamente sì. Voglio dire che noi forse anche siamo un'impresa culturale, quindi ragioniamo secondo le stesse logiche, mi fa molto piacere che tu lo dica, perché io sto molto lottando da quando sono qui per far passare un messaggio. Il museo non è una società sospesa, il museo vive all'interno della società, ne è una componente e quindi subisce tutte le trasformazioni e può aiutare anche a indirizzare e a darci una rotta, perché l'errore è pensare che noi siamo una torre d'aboria separata. Dare una rotta, dare una direzione ne avrebbe bisogno il nostro paese, soprattutto con tutti questi strumenti che abbiamo potenzialmente incredibili, la cultura, i musei, perché non riusciamo? Questa è una cosa che provo a dare delle risposte tante volte ma mi riesce faticoso. È perché abbiamo troppo e tante volte con la pancia troppo piena? In realtà perché continuiamo a guardare il nostro patrimonio culturale da una parte come un fardello pesante per le casse dello Stato, dall'altra in maniera secondo me altrettanto errata come la nostra fortuna e la panacea per i disastri economici del paese. Il patrimonio culturale non è nell'uno o nell'altro, è un'enorme ricchezza che noi abbiamo in prestito dai nostri figli e ricordiamoci questo e dobbiamo consegnarlo alle generazioni future il più intatto possibile. Il più intatto possibile vuol dire anche non solo dal punto di vista materiale ma anche dal punto di vista della ricerca. Qual è il problema fondamentale di questo paese? Ci serve una ricocitura a livello sociale tra quello che con due termini latini mi piace chiamare la urbs e la civita. La urbs sono i monumenti, le nostre città monumentali, i musei e la civita è il contesto sociale. Ci serve che torni una fiducia nel gestore della cosa pubblica e che ci rendiamo conto che non è un fardello sulle casse dello Stato ma che se noi ogni anno, e adesso dico una cosa forte, investissimo uno o due miliardi in cultura, questo ci tornerebbe. Noi invece pensiamo di non far niente e che i beni culturali possono poi fare cassa. Questo è l'errore e investire non significa semplicemente investire in comunicazione, significa investire di nuovo in ricerca. Quanti dei nostri giovani non trovano lavoro? Io sono felice che con le poche possibilità che abbiamo, innanzitutto ho portato la squadra da 13 a 51, che insomma in quattro anni di lavoro è stato un risultato importante. Sono contento che siamo riusciti ad assumere molti giovani, sono contento che siamo riusciti a dare la possibilità a molti giovani laureati e con il PhD in Egittologia a venire a lavorare qui e sono anche contento che con gli avanzi di bilancio finanziamo delle borse di dottorato e di postdoc per permettere ad altri giovani di approfondire. Ecco, da lì parte la ricchezza. Se un ragazzo mi lavora per 3-4 anni, mi scrive una monografia e riesce a capire, a comprendere una parte della collezione, lì ho una nuova storia da raccontare, ho una nuova modalità poi da raccontare al proprio pubblico. Quindi investire nella ricerca... Mi piace questa idea di pensare alle generazioni, anche di questo se ne parla molte volte. E fra l'altro su questo, scusami se ti interrompo un attimo. Io ne parlo molto quando parlo dell'organizzazione dei mondiali DC, dimmi. Sì, e molto spesso nella nostra mentalità noi vediamo, facciamo questa distinzione a livello di bilancio, investimento in conto capitale. Paradossalmente per me è relativamente facile trovare dei soldi per riallestire una sala e trovo degli stakeholder che sono disposti a darmi dei soldi. Quando dico ma voglio assumere 5 ricercatori, si storce subito il naso e dice beh, ma lì aumenti la spesa corrente. Come si fa a considerare la ricerca spesa corrente? In un paese che investe pochissimo in ricerca e che ha un gap da questo punto di vista, ad esempio con la Germania, che invece investe in cultura e ricerca il 3,8% del PIL. Quando ho accettato questa sfida della presidenza dell'organizzazione dei mondiali DC, una delle prime cose che mi è venuta in mente è stata proprio quella di provare a declinare e dimostrare che il grande evento fosse un'occasione, non solo per un cambio di passo, di cultura e di discontinuità, ma fosse anche un'occasione per dimostrare che c'è la possibilità di far rinascere tanti dei territori attraverso dei progetti che vedano coinvolte le generazioni nuove. Cioè un grande evento serve come bandiera per il paese, serve per la regione, ma serve soprattutto per la comunità locale. Perché dico questo? Proprio perché, come dici tu, lo spreco più grande che possiamo fare è sprecare qualche cervello di qualche ragazzo giovane, no? E proprio in questo senso è fondamentale avere una proiezione. È una cosa, mi piaceva fare anche una battuta con te su cosa vuol dire questo nuovo mondo della tecnologia e della rete per la tua attività. Ma proprio perché sembra che questa rete, sembra che questo nuovo modo di comunicare, stia in qualche maniera impedendo il pensiero a medio e lungo termine, no? Forse quello degli antichi. Nel tuo settore, quali sono? Perché mi sembra che un po' tutti, da una parte, vedono il beneficio, no? Si può comunicare con più facilità, avere un pubblico molto più largo, si disintermedia, no? Cioè il tuo rapporto con il tuo consumatore. Però dall'altra parte c'è sempre il rischio di banalizzare e cercare il like quotidiano che non ti permette più di avere la visione a lungo termine. Assolutamente sì. Noi con i mondiali di sci abbiamo cercato proprio la strada opposta. Allora, innanzitutto voglio ricollegarmi un attimo a quello che dicevi tu, perché mi piace molto anche questo parallelismo con le aziende. Rispetto a quello che dicevamo prima, uno dei problemi enormi che abbiamo in questo paese è il non far sistema, ovvero il pensare che io, impresa culturale, sei completamente diverso da quello che fai tu. Invece qui ci vuole contaminazione, anche a livello, per esempio, di comunicazione dei nuovi media. Siccome siamo di fronte alle nuove sfide, perché non facciamo un crowdsourcing? Perché non facciamo un source sharing? Dicendo, bene, ma tu hai questa professionalità all'interno della tua azienda molto abile a penetrare il mercato cinese. Io organizzo delle mostre itineranti in Cina, magari possiamo... Tu parli in tutti questi paesi, quante lingue sai tu? Un pochino. No, no, dici, dici. Vabbè, fra lingue antiche e lingue moderne, insomma, ne leggo 11-12. Ecco, questo qua è giusto per avere un riferimento della potenziale tra alcuni dei nostri... Quello che dicevi tu, fra l'altro, bellissimo, dei nuovi media. Ovviamente, siccome il museo non è una società sospesa, anche il museo deve saper comunicare al proprio pubblico e quindi con le modalità che il proprio pubblico ha. Io noto spesso, ho la fortuna di tenere dei corsi all'università e quindi di avere dei contatti con i ragazzi. Si parla anche lì, si banalizza molto e si dice che le generazioni di oggi non sanno approfondire. Io vedo che invece i ragazzi bravi, forse ho la fortuna di entrare in contatti con ragazzi molto bravi perché chi sceglie di studiare Egittologia fa una scelta antieconomica, quindi deve essere particolarmente motivato. Sanno sfruttare le nuove risorse digitali in maniera molto oculata e quindi sono molto più bravi di quanto non fossimo noi perché hanno una possibilità di recepire le fonti molto più grande. Se io dovevo andare semplicemente in biblioteca e se un libro in biblioteca non c'era, ero finito, non potevo più andare avanti, la rete permette. Però io faccio sempre iniziare tutti dallo studio di Momigliano, uno degli storici più importanti che l'Italia ha avuto e soprattutto sulla disamina delle fonti. Secondo me uno dei problemi della rete è non saper fare una gerarchia delle fonti e appiattire le competenze. Possono debordare nelle fake news e confondere l'opinione. che tutti noi possiamo dare un giudizio anche su campi del sapere che non conosciamo. Io rifiuto spessissimo interviste quando mi chiedono di commentare atti di politico, perché non sono un politologo, non sarebbe giusto che io lo facessi. Forse so qualcosa... Devi sapere, Cristian, che la ragione di questi incontri è partita proprio dallo stesso tipo di sensazione che ho avuto io. Mi chiedevano di commentare tanti temi e a un certo punto mi sono sentito proprio a disagio, perché ho detto parliamo con gli specialisti. Sì, infatti, poi io dico forse posso parlare con un po' di competenza del nuovo regno dell'antico Egitto, punto. E questo è quello che ho studiato e il resto... Senti, un'altra cosa, la tecnologia. Noi abbiamo come 21 Invest una partecipata a Catania, una società, si chiama Sifi, è una società leader nei prodotti per la cura degli occhi. È in questo distretto che pochi conoscono, forse che è altamente tecnologico vicino a Catania, un'azienda che si è distinta sicuramente per la capacità di inventare dei prodotti, avere un successo commerciale anche in termini di ricerca e sviluppo. Ha un numero di PhD, di dottorati di ricerca molto importante. Anche lì sono tornati i cervelli. Una cosa che abbiamo fatto, che mi è piaciuta molto, noi nelle nostre partecipate cerchiamo, insomma, come ti dicevo, di dare un significato che vada oltre al profitto. Per noi la visione è che le aziende del domani di sicuro cercheranno di fare profitto, ma lo devono fare in un contesto ambientale che sia compatibile con l'interesse di tutti gli stakeholders. Tra le cose che hanno fatto, un Arts for Blind, Area Pacis a Roma, una tecnologia che permette ai non vedenti di apprezzare più da vicino il mondo dell'arte. Cioè, tu tocchi l'opera e in automatico parte un racconto che prova a trasmettere col massimo dell'empatia e del coinvolgimento tutte queste sensazioni. Ecco, tu cosa pensi della tecnologia nel mondo dell'arte? Quindi non la tecnologia di distribuzione della rete, ma la tecnologia. ci permette di vedere cose che finora non potevamo vedere. Ti do un esempio chiaro per tutti. Noi, il 15 febbraio del 1906, Ernesto Schiaparelli scoprì la tomba di Ha Emerit, l'unica tomba intatta del Nuovo Regno che si è conservata al di fuori dell'Egitto. Scopre due mummie intatte all'interno dei loro sarcofagi. Per la prima volta il nostro pubblico sarà in grado di vedere in faccia le mummie senza che noi le tocchiamo. Le mummie restano bendate e facciamo lo sbendamento virtuale e non solo. Stampiamo i gioielli e gli amuleti che loro hanno all'interno. Quindi facciamo una modellazione 3D e li stampiamo. Quindi, come le nuove tecnologie mi permettano di scandagliare dei livelli del bene culturale che altrimenti io non potrei conoscere. Al contempo, però, nel prossimo dicembre, organizzeremo su questi temi un simposio internazionale in cui ci interrogheremo come i musei debbano in un certo modo coinvolgere le nuove tecnologie ma devono stare attenti ad una cosa. Noi parliamo di una generazione che è diversa dalla nostra e che non ha il contatto con la cultura materiale. Io partengo ancora ad una generazione che quando va in libreria e compra un libro, la prima cosa che fa quando va a casa è lo scarto e lo annuso. A me il senso della carta, l'odore del libro, è una cosa che mi dà proprio un piacere come la lettura e anche la materialità. Come faccio a trasmettere questo concetto a un ragazzino che questa cosa non l'ha mai fatta? Allora, dobbiamo stare attenti perché se io riesco a portarli in museo, alla fine voglio che vedano anche l'oggetto. Ho già perso la scommessa se io cerco di dire loro che vi è una sacralità dell'oggetto, che l'oggetto è sacro perché è antico, perché invece loro sono abituati a modellazione in 3D, a vederseli sullo screen di casa, a farsi lo stampo. La tecnologia può farci vedere delle cose che non ci immaginiamo neanche. Appunto, la tecnologia, a me piace dire, ci aiuta a ricostruire la biografia dell'oggetto, a ricostruire la nostra personalità. Ci sono stati fatti degli esperimenti che sembra abbiano avuto successo, attraverso le arti visive, i film, i video, di riportare nel contesto storico il consumatore, insomma, chi partecipa a una mostra, insomma, uno che entra nel museo, lo fai entrare ancora di più nella storia del tempo che va a osservare. Cosa pensi di questo? Penso che sia molto utile, penso che anzi ci sia un altro livello che va considerato, quello, il primo, quello che mi permette di ricontestualizzare l'oggetto all'interno del suo contesto storico. Noi siamo qui in una sala meravigliosa, con una serie di statue, quello che ci manca è capire da dove vengano quelle statue e cercare di visualizzare all'interno della nostra testa il contesto in cui esse furono ritrovate e dove funzionarono, con uno scopo completamente diverso da quello che hanno adesso. Queste statue non erano mai state messe lì per essere ammirate da milioni di turisti, ma erano lì per essere in relazione con la divinità all'interno di un tempio. Ecco, allora innanzitutto devo ricostruire questo contesto e di nuovo ricerca, ricerca, ricerca. Questo tipo di esercizio secondo te, questa è la mia opinione, ma voglio sentire la tua, non vuol dire che uno perché tu virtualmente l'hai fatto vivere un luogo, un'emozione, questo rappresenti la sostituzione alla visita del museo. No, e io parlo sempre di quarta dimensione. Noi abbiamo ad esempio nella tomba di Kha abbiamo fatto un video con l'istituto IBAM di Catania, parte del CNR, che è partito dal nostro materiale d'archivio, dalle nostre foto, sono lastre fotografiche fatte nel 1906, le ha rese immersive e quindi adesso il visitatore ha un video di introduzione e scende nel pozzo e si trova nel momento in cui Schiapparelli trovò la camera sepolcrale chiusa con la porta ancora sigillata, la porta viene aperta e si entra all'interno della camera sepolcrale. Quindi se io le uso in maniera oculata facendo ricerca, le nuove tecniche digitali mi permettono di vivere delle esperienze che altrimenti non potrei vivere. Tutto sempre, e lo ripeto, partendo dalla ricerca e interrogandosi in primis qual è il messaggio che io voglio narrare e come posso renderlo al meglio. In altre parole, stiamo attenti a non scadere nell'edutatement, ma invece cerchiamo di trasmettere un messaggio e chiediamoci sempre quale messaggio vogliamo trasmettere. Tra l'altro mi riconnetto a una cosa che dicevi tu prima, in Italia siamo ossessionati dal numero di visitatori, quanti visitatori vanno in un museo? Io vorrei che fossimo ossessionati da un'altra cosa, ovvero che messaggio porta con sé ogni visitatore? Cosa si ricorda? Cosa ha imparato? Quali sono le cinque cose che porta con sé? Perché se non costruiamo la memoria non vi è nulla e se non costruiamo la memoria ma dimentichiamo anche il nostro patrimonio culturale lo mettiamo a rischio, perché il primo rischio che ha il patrimonio culturale è quello di essere dimenticato. Come tutte le cose se non le vivi e se non crei l'energia della rinterpretazione continua e del movimento poi alla fine si spegnono. Queste cose qua, dicevano gli orientali che una pianta che smette di crescere muore. Assolutamente. Grazie Cristian. Grazie a te, grazie davvero. Resta meraviglia, io starei qua per ore. Sì, qua potevamo andare avanti, però ho pensato che le cose importanti le abbiamo dette tutte. Lui c'è... Sì, sì, bellissimo. Mi è piaciuta questa chierata, grazie. Se uno è bravo è più facile. Una cosa che mi è venuta in mente, sempre ricercando le analogie tra i settori diverse come fonte di valore e di pensiero nuovo, è stata quella che qui abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di ricerca, abbiamo parlato di organizzazione e però alla fine, come in tante altre cose, tutto questo parte anche dall'intuizione e dal coraggio del singolo, no? Cioè chi è il primo che pensa che ci possa essere? Perché mi sembra che sia stato un atto allora di grande coraggio. Mi piace ricordare la storia di un italiano anteliteram che pochi ricordano, che però io ho voluto valorizzare all'interno, nella prima sala, tra l'altro con una bellissima collaborazione con Casale Monferrato e questo personaggio si chiama Carlo Vidua, è un personaggio figlio dell'Ottocento che gira il mondo, che cerca di conoscere, arriva da Alessandria d'Egitto, vede la lista della collezione Drovetti, del Consolo Generale di Francia che ha raccolto questa collezione e tramite Prospero Balbo scrive al re di Sardegna e gli dice Torino deve comprare questa collezione, solo se Torino comprerà questa collezione, lo dice nel 1819, 42 anni prima dell'unità, dice l'Italia sarà un grande paese, perché avremo la prima collezione di arte classica in Roma, la prima galleria in Firenze e il primo museo egizio in Torino. Ecco l'idea che investire in cultura e avere un patrimonio culturale permetta di definire l'identità di una nazione nascente che ancora non esisteva e avere la forza in un contesto europeo internazionale, 1819, 42 anni, 42 anni, 1819. Costava molto, 400 mila lire piemontesi, 60 milioni di euro, circa tre quarti del bilancio del Regno di Sardegna e si decide la lungimiranza e l'idea che un investimento possa portare poi una città, Torino, a diventare la capitale dell'Egittologia internazionale e lo è ancora duecento anni dopo. Il singolo che fa la differenza, bellissima questa storia. E avere una visione, una progettazione, una programmazione a lungo termine. Sì, io dico sempre che poi alla fine anche le nuove generazioni o i gruppi devono essere tenuti assieme attraverso la progettualità, il sogno, insomma, quello è il significato. Ecco, il sogno, la passione, io dico sempre ai miei studenti, quando vengono e mi chiedono una tesi, una tesi dottorato e mi dicono ma se io scrivo su questo argomento poi troverò lavoro, allora dico guardi, mi fa già la domanda sbagliata e quindi diciamo che la tesi non la fa. Uno deve seguire la propria passione, sapere che far ricerca è fatica, perché dedicarsi 3-4 anni allo studio di una tesi dottorato non è una cosa semplice, richiede dedizione e passione. Però se uno investe in se stesso e non nasconde in questo la fatica che deve portare avanti, vincerà in ogni caso, sia che trovi lavoro nel suo ambito scientifico disciplinare, sia che poi vada a fare dell'altro, perché investire in se stessi, nelle proprie passioni e nelle conoscenze dovrebbe essere il sale della società. Anche questo vale per tutti, riuscire ad avere la fortuna di fare un mestiere che piace, dare spazio alle proprie passioni, ai propri interessi, è sempre uno dei primi ingredienti per il successo. Grazie Cristian. Grazie a te.